Negli studi di TV City la dottoressa Olga Sesse, rappresentanza dell'associazione Pro Maresca, nei giorni scorsi proprio alle telecamere di TV City, il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio ha annunciato la riapertura del pronto soccorso il prossimo 16 giugno. L'associazione plaude a questa riapertura ma questo è solo l'inizio. Grazie per poter far esprimere una volta a noi dell'associazione la soddisfazione per aver sentito che questa fondamentale presenza del pronto soccorso a Torre ritornerà ad essere. Il popolo vuole l'ospedale con il pronto soccorso ma con tutte le specialità connesse al pronto soccorso per cui io mi auguro che come ha annunciato il direttore Donofrio nei prossimi mesi ci saranno le terapie semintensive, ci auguriamo anche un paio di terapie intensive in maniera tale che in un prossimo futuro i 250 posti letto del Maresca possano essere destinati a ciò che veramente serve sul territorio. Chiediamo che siano illuminati tutti quelli che possono operare per restituire alla cittadinanza ma tutta della fascia costiera un ospedale efficiente al passo con i tempi. Lei prima parlava di 250 posti letto ma quali reparti dovrebbero essere attivati? Bisognerebbe che ci fosse una chirurgia, una medicina, una cardiologia e una ortopedia. Queste però dovrebbero essere quelle legate al pronto soccorso. La preghiera dell'associazione che sia un ospedale di urgenza emergenza anche di secondo livello. Smettiamola con questo ospedale di base, servono ospedali veri di secondo livello. Spendiamo bene i soldini anche i 6 milioni di euro di cui tanto si parla ma ancora non sappiamo come saranno spesi. Spendiamoli bene e offriamo alla cittadinanza un servizio di cui oggi possano essere orgogliosi coloro che l'hanno creato ma di cui un domani la cittadinanza possa dire grazie a quell'amministrazione illuminata che ha riordinato le cose sul nostro territorio. L'associazione naturalmente continuerà a vigilare? Assolutamente sì perché non sappiamo che il servizio di pronto soccorso che sarà riattivato il 16 giugno prossimo ventuno sarà attrezzato con tutte le strutture sanitarie a monte del pronto soccorso. De Luca aveva dichiarato nel generale scorso che erano state stanziate 6 milioni per il restyling e per il lancio dell'ospedale Marisca. Noi chiediamo che questi soldi vengono investiti anche per i vari reparti non solo per il restyling della struttura fisica dell'ospedale. Preghiamoci di dovere che pensi anche al potenziamento di tutte le altre attività sanitarie. Una cosa che vorrei chiedere è se il nostro ospedale Marisca può rientrare fra la realtà che possono beneficiare dei fondi comunitari del Recovery Fund. Speriamo di sì perché così vediamo realizzato di nuovo l'ospedale Marisca come era qualche decennio fa. Il 16 giugno l'associazione Marisca cosa farà? Sarà al pronto soccorso? Certamente saremo lì a vigilare per capire un po' la situazione, ciò che faranno, ciò che metteranno perché per sentito dire c'è mancanza di personale sia specialistico che infermeristico. Me lo lasci dire sindaco con un bel sorriso perché lei mi conosce. Non è un fatto delle istituzioni che il pronto soccorso si aprirà, ma il fatto che noi dell'associazione primaresca sono 11 anni che non abbiamo mai mollato. Quindi diciamo diamo a Cesare quello che è di Cesare. È inutile che oggi ognuno pensa di uscire di un articolo e dice magari grazie a me si è aperto il pronto soccorso. No, grazie a nessuno. Grazie alle nostre forze. Per come si apre, si apre. Solo grazie all'associazione primaresca. Questo è quello che voglio dire ai cittadini di Torre del Greco, perché i meriti politici non si devono prendere nulla, perché non è merito loro, è merito nostra associazione primaresca. Bisogna fare veramente tanto ancora. Noi saremo sempre a vigilare, almeno io tutti i giorni vado a vigilare al maresca perché ce l'ho nel mio è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.